Buongiorno a tutti, il mio nome è Francesco Pagliacci e sono una senta di ricerca del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia. La metà di ricerca è principalmente orientata all'analisi della dimensione territoriale delle principali politiche pubbliche e dei loro effetti a scala locale, nazionale e sovranazionale. Rispetto a questi temi di ricerca, un elemento centrale è rappresentato dalla rappresentazione cartografica delle variabili economiche. Rispetto a questi obiettivi di ricerca, dunque, il software QGIS rappresenta un utile strumento di lavoro. Proprio questo software è oggetto di questo corso di cui io sarò il vostro docente. Il software è un software open source che permette la rappresentazione cartografica delle variabili economiche e di altra natura. In particolare, questo corso ha un carattere introduttivo ed è pensato per tutti coloro che non hanno alcuna conoscenza pregressa del software QGIS o di altri strumenti di cartografia GIS. In particolare, questo corso è composto di quattro distinti moduli. Il primo modulo è prevalentemente introduttivo. Vedremo insieme alcuni concetti che sono alla base dei sistemi GIS. Ad esempio, tratteremo il concetto di georeferenziazione oppure il concetto di cartografia. Il secondo modulo prevede l'utilizzo del software QGIS e le sue funzioni base. Vedremo quindi come si presenta l'interfaccia grafica e che cosa si può fare con esso. Il terzo modulo tratta di alcune funzionalità più avanzate del software e in particolare vedremo insieme come effettuare alcune rappresentazioni cartografiche. Infine, il quarto modulo introduce alcune finalità aggiuntive del software e presenta alcuni punti di contatto del software QGIS con altri elementi di analisi statistica, come ad esempio il software R. Buona lezione a tutti!